Preghiera al preziosissimo sangue di Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Eterno Padre, io ti offro, per le mani purissime di Maria, il sangue che Gesù sparse con amore nella passione e ogni giorno offre nel sacrificio eucaristico. Unisco le preghiere, le azioni e le sofferenze mie di questo giorno, secondo le intenzioni della vittima divina, in espiazione dei miei peccati, per la conversione dei peccatori, per le anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. In particolare, te lo offro secondo le intenzioni del Santo Padre e per questo bisogno che mi sta tanto al cuore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie.